Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Medicina Top. Sono Marco Klinger e con me oggi ospiti famosi, come sempre, a partire da Maria Cristina D'Agostino con la quale parleremo dei vantaggi dell'applicazione della metodica delle onde d'urto, rivolte soprattutto ai problemi muscoloscheletrici. La seguirà Pietro Berrino, chirurgo plastico di Genova, con il quale parleremo di ricostruzione mammaria, benefici e soprattutto nuove metodiche. L'ultimo ospite, un ospite ben noto anche a questi schermi, è Claudio Bracchino, famoso giornalista con il quale parleremo di media, comunicazione e medicina. La prima ospite è Cristina D'Agostino, via al servizio. Le onde d'urto focali sono state introdotte in medicina alla fine degli anni 80 per frantumare i calcoli renali, operazione utile per favorirne l'espulsione naturale. Da decenni sono impiegate in modo crescente anche per la cura, con azione biologica e non distruttiva, di molte patologie di tendini, ossa, muscoli e non solo. È una metodica sicura, non invasiva e pressoché è priva di effetti collaterali. Le onde d'urto focali sono impulsi sonori di breve durata che producono nei tessuti microstress meccanici concentrati su un'area ben precisa, il bersaglio e in profondità. Si distinguono dalle onde radiali, oppressorie, poiché hanno una diversa forma d'onda, la cui energia tende appunto a diffondersi radialmente, cioè a disperdersi in superficie. Cristina D'Agostino è referente del centro terapia e ricerca onde d'urto di Humanitas, past president della società italiana di terapia onde d'urto, senator e international instructor dell'International Society of Shockwave Medical Treatments. Cristina, una vera celebrità, ciao, benvenuta. Ciao Marco, grazie infinite per l'ospitalità e buongiorno a tutti. Si può dire che il tuo nome, Cristina, rappresenta le onde d'urto a Milano, in Italia, in giro per il mondo. Come urto io non urta nessuno. Come urto te non urta nessuno. Ma soprattutto le onde d'urto, Cristina, che in tanti dei nostri amici a casa conoscono, sono sempre più diffuse in ortopedia. Ma ci fai un elenco delle patologie che possono avere vantaggio dalla terapia con le onde d'urto? Sì Marco, sono veramente tante. Diciamo che abbiamo mutuato la tecnologia, abbiamo derivato la tecnologia dalla litotrissia renale, dove era stata inizialmente ed è tuttora utilizzata per rompere i calcoli renali. Cioè quella macchina che scioglie i calcoli renali. Che frantuma i calcoli. Che frantuma i calcoli. Invece in ambito il muscolo scheletrico, quindi ortopedico, fisiatrico, riabilitativo, vengono utilizzate per tutta una serie di tendinopatie calcifiche e non calcifiche, questo bisogna precisarlo, e per tutta una serie di patologie dell'osso, in primis le fratture che non guariscono, quindi le sodartrosi, i ritardi di colpire. Quindi è un bel aiuto agli ortopedici, Cristina? Sicuramente perché è un trattamento conservativo, diciamo ben tollerato dal paziente se noi seguiamo le linee, le raccomandazioni della buona pratica clinica perché abbiamo delle raccomandazioni sulle categorie di patologie che possiamo trattare o meno e se utilizziamo delle macchine ad hoc, certificate con perizia. Cristina, che sia ben tollerato dal paziente, lo posso confermare essendo io stesso stato un tuo paziente, non è fastidioso, anzi era molto rilassante e ha detto che i vantaggi sono vantaggi clamorosi, vedevo uscire solo pazienti sorridenti, i miei colleghi pazienti nel periodo erano tutti sorridenti. Senti ma non è un meccanismo quindi Cristina di rottura, è un meccanismo perché uno pensa pum 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 l'onda romperà qualcosa, invece è un meccanismo di tipo biologico, allora in ambito extraurologico quindi in ambito muscolo scheletrico e poi vedremo anche c'è tutta una parte che riguarda la medicina rigenerativa, noi non rompiamo e non spacchiamo niente, lo stimolo meccanico viene recepito dalle cellule e evoca tutta una serie di reazioni biologiche benefiche che possiamo riassumere nel processo di modulazione dell'infiammazione. La modulazione dell'infiammazione spegne... Ci fa vedere, scusa Cristina, la regia magari ci fa vedere intanto la macchina, a me non sappiamo cos'è una macchina. Questa è una macchina tipo di onde d'urto con un manipolo che viene impugnato dall'operatore che sarebbe meglio previo controllo ecografico, fa un targeting, cioè individua fra virgolette il bersaglio e lì poi applica il trattamento. Perché Cristina il paziente come nell'immagine successiva che ci manda la regia adesso di fatto è qua. Sì, questa è l'altra macchina più grande che si può utilizzare, è bene che il paziente sia sdraiato, così è comodo. Quello è un ecografo sulla destra dell'immagine collegato direttamente in line con la macchina, questa è la macchina più grande. Quindi ti fa essere più preciso quell'ecografo Cristina. Sì, perché la sonda è esattamente coassiale, cioè inserita proprio nel centro della sorgente delle onde d'urto e io mano a mano che muovo la sorgente so esattamente istante per istante dove sono con il mio puntamento. Quindi la tua manualità consiste proprio nel seguire esattamente come da carta geografica. Sì, devo individuare il bersaglio, questo per esempio è di grande utilità se devo trattare una pseudartrosi, un'osteonecrosi della testa del femore e devo andare anche in profondità per cui uso la macchina grande. Per i trattamenti diciamo di più ordinaria amministrazione io posso utilizzare il manipolo a mano, diciamo così. Se ho un ecografo nella macchina grande è fondamentale, mentre con la macchina piccola posso... gli dicono che certamente potrebbero forse prima di essere operati o non essere operati facendo... Ci spieghi il rapporto con le onde d'urto? Sì, la cuffia dei rotatori è una dei trattamenti per eccellenza che possiamo fare, è fondamentalmente una patologia dei tendini, poi può esserci o non esserci la calcificazione. Le onde d'urto devono sempre essere inserite in un programma riabilitativo poi trattandosi di tendini ma lo stesso vale se io dovessi trattare una patologia muscolare per esempio ma di fatto io agisco sulla tendinopatia, la modulazione dell'infiammazione diciamo innesca tutta una serie di processi riparativi, non è che io ho una lesione e ho una completa restituzione però comunque viene facilitata... Faccio un'azione benefica, si fanno generalmente un ciclo di tre sedute con cadenza settimanale non rigida, ci può essere fra una seduta e l'altra... Che beneficio senti alla spalla? Allora, diciamo che appena finita la seduta io ovviamente devo modulare il trattamento in funzione del paziente che ho, dello stadio della tendinopatia, del tipo di tendinopatia ma poi devo ad ogni seduta avere un feedback, sapere cosa è successo durante la settimana e regolarmi per la sessione successiva. Il paziente ha una sensazione di bruciore, di pizzicore diciamo, parliamo delle onde focali quelle propriamente dette, non parliamo delle onde pressorie o radiali che hanno più un'azione diciamo di contatto martellante diretto che possono essere utilizzate in alcune tendinopatie ma magari vengono più tollerate sui trattamenti muscolari. A me curiosisce molto Cristina la situazione delle fratture, magari fratture importanti che fanno fatica a calcificare, a guarire. Sì. Questo è veramente importante perché è un bel aiuto sia ai pazienti che agli ortopedici stessi. Questo è sicuramente una metodica molto valida e tra l'altro storicamente la prima applicazione risale al 1991 quando Valkano e Michalov, due ortopedici bulgari, produssero proprio un lavoro scientifico la prima pubblicazione. L'effetto non è di rottura dell'osso e quindi di innesco dei processi riparativi, è di un'azione diretta di stimolo sulle cellule dell'osso che vengono simolate a produrre osso. Quindi può essere chiamata, può essere comunque intesa come una medicina rigenerativa. È una medicina rigenerativa, infatti oggi diciamo che le onde d'urto hanno passato la fase pioneristica e sono approdate nell'ambito della medicina rigenerativa. Questo significa che... Che vuol dire anche ferite più difficili per i nostri amici a casa perché ha ferite che non si chiudono, non ci siamo solo noi, i chirurghi plastici. E' l'ipofilling, le medicazioni avanzate, ma le onde d'urto invece e talvolta le abbiamo utilizzate. E ci siamo spesso confrontati e collaborati perché la modulazione dell'infiammazione richiama anche tutti i processi rigenerativi che hanno alla base la produzione di nuovi vasi di richiamo delle cellule staminali e quindi la possibilità di trattare delle fratture, delle ferite che non riparano, delle ulcere e quindi sicuramente con un grande potenziale. E cosa mi dici del fatto che le onde d'urto addirittura possano far diventare le nostre amiche a casa più belle, Cristina? Sì, sì, sì. Cioè è una cosa che tu poni sempre in alternativa a quello che facciamo noi. No, è diciamo di integrazione. L'aspetto rigenerativo coinvolge i tessuti connettivi a 360 gradi. Allora, con le onde d'urto noi possiamo esercitare un'azione di stimolare un'azione di rimodellamento, di drenaggio dei liquidi. Quindi non facciamo dimagrire e non facciamo scomparire il grasso, non scoppia. Però la cellulite ne ha un vantaggio in questo modo. Sicuramente perché si ha un effetto di drenaggio dei liquidi come fare poi una pressoterapia, un infrodrenaggio manuale con cui possono essere combinate. Ci può essere un'azione adiuvante l'intervento chirurgico per ridurre l'edema, l'infiammazione e stimolare la rigenerazione e il rimodellamento del tessuto connettivo. Quindi mi immagino un futuro anche di tanti bei lifting con facce che risalgono e la pelle che diventa più bella. Sì, viene utilizzata anche per... Solamente col pum 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 delle onde d'urto. Magari non solo con le onde d'urto perché diciamo noi che pratichiamo onde d'urto ormai da decenni abbiamo proprio capito che abbiamo a disposizione tante terapie che devono essere utilizzate. Però Cristina mi sembra che la possibilità di impiego delle vostre macchine e soprattutto per te che sei così inserita nel mondo dell'onde d'urto e conosci veramente ogni tipo di risvolto, penso che sia una situazione e un tipo di macchina che possa aprire nuove frontiere si può dire a cadenza mensile a momenti. Sì, in effetti l'aspetto rigenerativo è quello che poi sta facendo un po' di scalpore in tutto il mondo al di là dei trattamenti nostri ortopedici, riabilitativi o diciamo di vulnologia o di medicina estetica è proprio la possibilità di rigenerare il mio cardio ischemico di fare delle applicazioni sui traumi spinali in acuto che abbiano comportato delle chirurgie e c'è un centro importante a Innsbruck dove il collega Ioan è un posto famosissimo dove si occupano esatto di soli di queste cose ci sono già dei trials in corso sull'uomo quindi possiamo parlare di medicina rigenerativa a tutti gli effetti Cristina abbiamo motivo per averti ospite a altre 10 puntate perché gli effetti sono veramente clamorosi soprattutto sono così ben instradati in tante tante direzioni che per noi e per tutti i nostri amici a casa sarà interessante onoratissima grazie ancora per essere venuta grazie Marco e grazie a tutti gli ascoltatori a seguire la brava Cristina D'Agostino siamo in collegamento con Genova con il professor Pietro Berrino con il quale parleremo di ricostruzione mammaria delle ultime novità e dei benefici di una ricostruzione mammaria e direi prima di interloquire con Piero via al servizio la ricostruzione mammaria è l'intervento che permette al chirurgo plastico di ricostruire una mammella demolita in parte o in tutto in seguito all'asportazione di un tumore il modo in cui viene eseguita la ricostruzione dipende innanzitutto dalle caratteristiche dell'intervento oncologico e cioè se è stato necessario asportare tutta la mammella e magari anche i tessuti di rivestimento o solo un quadrante, cioè una parte la ricostruzione mammaria è anche diversa per i tempi in cui può avvenire e cioè contestualmente all'intervento oncologico oppure a distanza di mesi o anche anni il cosiddetto secondo tempo infine le ricostruzioni differiscono anche in base al materiale utilizzato i tessuti della paziente oppure dispositivi come protesi ed espansori la ricostruzione mammaria è un intervento completamente personalizzato e avviene a carico del Servizio Sanitario Nazionale senza alcuna spesa da parte della paziente Pietro Berrino è uno dei più famosi chirurghi plastici in Italia ed è uno specialista in chirurgia plastica, oncologia è genovese ma ha studiato la sua scuola di specializzazione a Milano ed era un mio compagno di corso ciao Piero, benvenuto in trasmissione a Medicina Top ciao Marco, è un grande piacere vederti e sentirti è un piacere collegarsi con te e con Genova grazie senza parlare di colori rosso-blu allora Piero, parlando invece di ricostruzione mammaria la parola ricostruzione mammaria si riferisce a tanti interventi differenti io e te ne facciamo tutti i giorni se tu dovessi spiegare ai nostri amici a casa com'è la divisione più facile? che tipi di interventi si fanno per ricostruire una mammella? certo Marco allora in sostanza abbiamo due linee che possiamo seguire quella che prevede l'uso di protesi che tutto sommato è quella più semplice o quella che prevede l'uso di tessuti propri in varie forme, in varie modalità questi sono i due grandi filoni direi no? sì certo e Piero nell'ambito delle ricostruzioni di protesi che magari ne acceniamo dopo ma nell'ambito della tua specialità storica che è stata per esempio Piero la ricostruzione con i tessuti di cosa ci puoi parlare con più proprietà in modo che si possa capire a casa? bene direi la ricostruzione con i tessuti propri addominali cioè quei tessuti che in altri interventi come l'addominoplastica vengono scartati per alleggerire l'addome un'addominoplastica per spiegare ai nostri amici a casa vuol dire un'incisione sul basso ventre con il quale si butta via una parte dell'addome che è tutta quella che va da l'ombelico al pube invece in questo caso questa parte Piero viene utilizzata dai ricostruttori è una grande quantità di tessuto di pelle, di sottocute che modellata in un certo modo riesce a mimare quasi perfettamente senza ripostruire con il grande vantaggio di non usare protesi che sappiamo che nel tempo hanno una certa instabilità questo è un tipo di ricostruzione permanente e tutto questo Piero producendo alla fine solamente una cicatrice addominale e quindi qualche volta vantaggi anche all'addome non solamente vantaggi alla mammella sicuramente abbiamo un alleggerimento dei tessuti addominali come per un addomino in plastica senti Piero e questi tessuti addominali possono essere anche possono essere utilizzati come per tradizione della tua scuola di Genova peduncolati come dire attaccati all'addome ma possono essere anche utilizzati da soli come dire distaccati del tutto giusto? Certo quello che tu alludi è l'intervento microchirurgico che ha vantaggi e svantaggi rispetto a quello più tradizionale e consiste nell'alzare nell'isolare questo settore di pelle con un'arteria ed una vena ed attaccarli ai vasi del torace Mentre invece Piero gli interventi più tradizionali che vengono fatti nel 90% degli ospedali quelli magari meno attrezzati a interventi importanti di questo genere riguardano altre cose vero? Sì certamente riguardano l'utilizzazione di protesi oppure di grasso trapiantato e trasferito tramite semplici iniezioni ovviamente hanno indicazioni un po' diverse rispetto alle ricostruzioni dei tessuti dall'addome Ecco appunto una donna una delle nostre amiche a casa che debba andare incontro alla mastectomia Piero comunque le viene proposto che cosa in prima battuta? In prima battuta viene proposto l'intervento più semplice che in linea di massima dà anche ottimi risultati e l'intervento più complesso cioè quello di cui parlavamo prima dall'addome oggi viene riservato a casi molto complessi con danni da radioterapia oggi con le protesi Con già danni precedenti dei tessuti quindi in cui devi portare tessuti proprio nuovi Certo e sostituire tessuti ammalati o danneggiati Piero e invece vuoi spiegare bene sempre i nostri ospiti a casa un espansore cos'è? Sì E perché lo si usa? È bravo è una protesi vuota che ha una valvolina attraverso la quale può venire inserito del liquido dell'acqua ma c'è così attraverso un ago che attraversa la pelle quindi questo sacchetto vuoto viene gradatamente riempito in modo da creare lo spazio per la futura protesi ecco questa mi sembra una spiegazione eccellente mentre invece Piero la situazione in cui cerchi di ricostruire per chi può perché non tutte hanno questo grasso disponibile che le pazienti quando sono particolarmente magre di grasso alla fine ne hanno poco disponibile per chi può e si può utilizzare grasso con che metodiche viene utilizzato allora c'è questa sequenza di interventi con cui l'espansore viene pian piano sgonfiato dopo essere stato portato al volume corretto viene sgonfiato e il suo volume viene sostituito da grasso iniettato prelevato a troppo ovviamente questa è una tecnica che richiede diversi tempi chirurgici però è una tecnica pochissimo invasiva e praticamente ambulatoriale fino a quando poi l'espansore può essere tolto il grosso vantaggio è che impara di capire quello che dici poi peraltro lo so perché il mio mestiere richiede tante sedute però molto piccole molto limitate semiambulatoriali addirittura per completare quello che dici tu il nostro amico comune Gino Rigotti a Verona sta praticamente creato la possibilità anche in Italia di conservare il grasso e di poterlo riutilizzare nell'arco di e questa possibilità sarà qui da qui a qualche mese forse al massimo uno o due anni di poter utilizzare il grasso prelevato una volta sola a piccole dosi come dire man mano venendo utilizzato per riempire la mammella proseguendo quello che dici tu e che fai a Genova e Piero tu hai seguito si può dire nel tuo caso veramente migliaia di ricostruzioni mammarie sei stato all'estero già da subito il più famoso di tutti noi con il tuo nome legato a questo tipo di intervento che beneficio hai notato nella tua storia per le pazienti sono per noi le pazienti che danno la maggiore soddisfazione proprio dal punto di vista umano perché vedi veramente persone che rifioriscono e riescono grazie all'intervento ricostruttivo a ritornare quelle di prima cioè dimenticano questo farvello purtroppo molto spesso pesano è veramente una chirurgia di grande soddisfazione sì ci si sente veramente utili utili alle pazienti e spessissimo si ha l'impressione te lo dico anche dal nostro centro di umanità San Milano di dare veramente una mano anche a un eventuale proseguimento delle terapie se una paziente comunque soddisfatta trova finalmente qualcosa di positivo in una storia oretta tutta sgangherata che l'aiuta nel supportare e sopportare anche tutte le cose che ne derivano benissimo Piero e tu che consiglio daresti a una paziente quindi avresti come dire un atteggiamento positivo verso una paziente che debba andare incontro a una situazione oncologica mammaria in questo momento Certamente anche nella fase preoperatoria il fatto di sapere di poter tornare integre fisicamente aiuta tantissimo ad affrontare tutto l'interoperatorio e te la credo Non è Piero non è detto che il risultato debba sempre essere positivo però devo dirti che anche le medie in tutto il mondo come quelle di Genova Milano eccetera le complicazioni sono l'arco del 10-15% soprattutto utilizzando espansori protesi ma anche direi con i lembi muscolari quindi in qualche modo si può fare in modo che una paziente affronti positivamente questo tipo di atteggiamento di cura di percorso insomma da un punto di vista Piero come dire avere fatto così tanto oncologia nella tua vita ti ha permesso poi di trasferire gli stessi principi anche in altre situazioni ti ha fatto diventare un chirurgo più completo in qualche modo Marco come tu sai abbiamo sempre condiviso questa idea la chirurgia estetica e la chirurgia ricostruttiva si completano a vicenda certi miglioramenti sulle protesi che noi conosciamo per via della chirurgia estetica vengono trasferiti nell'ambito della chirurgia ricostruttiva e viceversa questo quindi c'è una buona prospettiva anche per quanto riguarda il futuro perché come tu sai nell'occhio del nostro del nostro ministero del governo stesso eccetera della qualificazione degli ospedali c'è di cercare di ricostruire il più alto numero di pazienti possibili mastectomizzate come segno di civiltà e di modernità quindi ci si augura di poterlo fare che siano sufficienti chirurghi per poter operare tutte le nostre donne mastectomizzate Piero è stato veramente utile nel darci un up to date sulla ricostruzione mammaria che è un fenomeno purtroppo che riguarda così tanta gente ma tanto quanto sono stati mi verrebbe da concludere i progressi nell'ambito della terapia del carcinoma mammario che sia Paolo Veronesi che Corrado Tinteri ci hanno spiegato essere veramente molto cambiata negli anni altrettanto possiamo dirlo insieme tu Piero Berino da Genova e io da Milano gli stessi progressi sono stati anche nella ricostruzione mammaria quindi come dire l'Italia in questo si schiera nelle primissime posizioni ed è soprattutto per merito di persone Piero come te e come tutta la tua scuola grazie ancora grazie per il collegamento ringraziamo Pietro Berino da Genova ciao Piero il prossimo ospite invece è Claudio Brachino famoso giornalista più ancora vi direi che famoso noto anche in questi schermi con Claudio Brachino parleremo di sanità medicina informazione e media quindi sarà un discorso brillante via servizio su Claudio Brachino il termine comunicazione deriva dal latino comunico ovvero mettere in comune ciò che viene messo in comune nella comunicazione sono messaggi che esprimono informazioni ma ovviamente anche intenzioni sensazioni pensieri sentimenti la comunicazione è un atto profondamente umano inevitabile e onnipresente visto che comunichiamo anche quando siamo perfettamente immobili e in silenzio ed è un aspetto fondamentale della medicina perché la spiegazione chiara e semplice di informazioni relative alla salute e alle malattie permette di decidere e agire sapere è potere in questo caso sapere è potere stare meglio stare bene Claudio Brachino non ha bisogno in realtà di grandi presentazioni ma giornalista direttore del settimanale in questo momento e soprattutto ha una lunga storia di giornalismo televisivo in mediaset ciao Claudio benvenuto a medicina top grazie a te che mi hai invitato ci diamo del tutto è un piacere un certo imbarazzo intervistare Claudio però ci proviamo questo è uno studio che è una casa è una casa per tutti i protagonisti dell'informazione multimediale di tal press Claudio finalmente ci puoi dire è detto da uno come te conta cosa è cambiato nell'informazione in senso lato da quando tu hai cominciato a fare questo mestiere ad oggi cosa c'è di veramente differente credo che la grande novità alla fine sia internet internet ha cambiato il mondo e ha cambiato anche il mondo del giornalismo perché è un medium importante è un medium diciamo che si rivolge a un certo tipo di pubblico che ha un certo tipo di esigenze e quindi si accosta vicino alla televisione generalista che è stato come hai detto tutto il mio lavoro per più di 30 anni sono stato 32 anni e mezzo sono arrivato con i pantaloncini corti da vita ecco ma scusa facciamo una digressione come ti è venuto in mente di dire vado mi farò il giornalista televisivo quello insomma ero lavorato in lettere ho lavorato in teatro ho conosciuto Edoardo a 20 anni ero avviato una carriera diciamo di un certo tipo e sicuramente come tutti quelli della mia generazione ha lavorato probabilmente in Rai poi ho conosciuto un signore una sera una prima teatrale a Roma si chiamava Adriano Galliani siamo andati a cena e mi ha detto noi siamo molto bravi siamo branzoli siamo molto pragmatici lei mi sembra un buon intellettuale venga a Milano che ci può dare una mano con la sua cultura ed è rienato ed è questa cosa ironica del grande Adriano insomma avere un padrino come dottor Galliani non è male poi partiva l'informazione c'era un primo TGI non so se tu lo ricordi del 1988 si chiamava dentro la notizia c'era fuori dalla notizia non c'era la diretta poi però alla fine nel 91 noi romani in 8 fummo chiamati a Milano il 16 gennaio perché stavo per scoppiare la guerra del Golfo la notte del 16 gennaio scoppiò il direttore di video news dell'epoca io poi sono direttore di video news Emilio Fede diede la notizia 8 minuti prima della Rai e nasceva lì il primo telegiornale nazionale bello e mi fa piacere che i nostri amici a casa sappiano di te queste cose perché quando vedi Brachino devi sapere anche da dove viene da come viene come è nato Brachino è nato così poi da lì in poi non abbiamo questo tipo di informazione nuova moderna eccetera in che modo si integra con la sanità con il mondo della medicina come la pensi? dico ancora una cosa per esempio anche quella che stai facendo tu e che parte faccio io perché sono editorialista come sai di Italpress faccio format per Italpress diciamo io li chiamo il mondo della televisione complementare rispetto alla televisione del giornalista quindi la comunicazione ormai è un fatto integrato beh come si integra con la medicina per esempio qui noi siamo dentro la comunicazione di una grande agenzia di stampa nazionale quindi quello che riesce da qui deve essere credibile e autorevole non ci possono essere i fake news nel tuo campo quello della medicina del lavoro che fate raccontare agli altri a chi ci segue o al paziente le cose con chiarezza onestà intellettuale autorevolezza e quel calore se me lo concedi che so che tu hai perché sei un grande medico ci provo ci provo o sei un grande medico nel senso umanistico del termine non entro nelle questioni tecniche dove sono molto scadente significa no no non è vero lo sanno tutti che non è vero adesso questo programma nasce con l'idea di che un migliore intervisti migliori senza offese per nessuno per questo si chiama top perché sono grandi professionisti che si incontrano e raccontano al pubblico la medicina per quello che è esatto non fake news giochini adesso faccio un intervistato armamenti dettorici voglio completarlo facendo un intervistato io o tu dicendo di questa cosa il timore o il terrore che ho sempre avuto io è quello che mi è accaduto osservando ogni tanto proprio gli spettacoli televisivi cioè quando quella notizia lì non diventa più una notizia ma diventa una promozione è una cosa che a me non interessa quella promozione di una cosa che di solito è di scarso valore di scarso livello allora io voglio che i messaggi che vanno nel senso profondo del termine succede con la medicina che è diventato racconto narrazione storytelling penso che quello è successo con la cucina assolutamente la cucina è diventato format reality però al di là di questo una cosa la medicina ha meno spazio Claudio devo dirti se tu osservi queste cose se pensi alla proporzione ci sono fiction programmi di intrattenimento misti c'è l'infotema anche sulla medicina secondo me però è importante su un tema che riguarda la nostra salute la nostra vita la nostra gestione che la comunicazione se mi concedi questo termine un po' da teoglio di un vecchio filosofo del linguaggio diventi informazione quindi non segni che girano generica comunicazione ma diventino informazione c'è patrimonio intellettuale di chi ascolta che conosce e capisce le cose si cerca anche degli altri hai detto le cose benissimo ma io sono sempre ammagliato da te in senso lato adesso non pensare male perché non c'è da pensare male però Claudio volevo dirti ci stimiamo no? sì in generale che impressione hai tu sul mondo della sanità a parte l'informazione in questo momento l'impressione che ha un giornalista importante come te che impressione hai? noi veniamo dal grande tsunami del covid che ha messo come su un grande parcoscenico tutto la mia idea è che la nostra rimane a livello nazionale ancora una grande sanità con molti problemi ovviamente come tutte le sanità molto diseguali per l'organizzazione delle competenze regionali ma non stiamo qui ora a discutere di politica che però è una grande sanità che rimane in larga parte ancora ricordiamo solo pubblica non molte democrazie occidentali hanno questo privilegio che abbiamo noi con però delle cose su cui bisogna fare in fretta intervenire rendere più uguali i territori migliorare i servizi perché le liste d'attesa si fa un cancro a un anno ho visto oggi sul Corriere della Sera dopo l'intervento di Mattarella sono d'accordo le liste d'attesa 352 giorni per una lastra al polmone se hai il sospetto di avere un cancro o di un attacco scusami non va bene allora bisogna mettere a posto queste cose investire molto oltre che in tecnologia sicuramente sta arrivando l'intelligenza artificiale oltre che in ospedali oltre che strutture negli uomini nel fattore umano quindi tenere i cervelli tenere i professionisti tenere i paramedici questo è un ottimo messaggio magari giusto e farli felici perché sono importanti dalla nostra questo è un ottimo messaggio Claudio per chi può presiedere queste cose quindi verso i nostri politici verso tutti quelli che sono i nostri amministratori amministrativi ma invece Claudio se tu dovesti dare un consiglio come spesso noi diamo ai nostri amici a casa che sono così attenti alla tua intervista come se tu fossi il medico suggerire a loro come leggere l'informazione oggi cioè come dire devono vivere su internet con tutto quello che c'è su internet oppure devono cercare di creare un cocktail che sia il più obiettivo possibile ci devono vivere senza senza perdere di vista il focus perché poi su internet trovi tanto forse trovi anche troppo quindi ci si bisogna in buoconderia ogni notte vado a vedere poi mi spavento passo la notte insomma ho 200.000 tumori comunque corrispondi quasi a tutto praticamente vado a vedere le cose allora bisogna devi sapere che è un segreto della medicina che i sintomi sono quasi sempre uguali che ti aprono un ventaggio bisogna prendere questo ma come hai detto tu bisogna prendere anche i giornali buoni dei programmi televisivi come questo anche se è prodotto da un diciamo da un broadcast che è un'agenzia non è un netto perché televisivo cioè prende le informazioni autorevoli delle persone che ti possono dire le cose giuste su un tema di reato su cui penso l'informazione legata ai giochi retorici alle narrazioni qui c'è poco da narrare quando tu hai un paziente devi avere un rapporto di onestà e di chiarezza e se me lo concedi se c'è un difetto che io trovo spesso anche in alcuni grandi medici in alcuni ospedali che spesso la gente non riesce ad avere le informazioni e fatica per avere con loro io ho visto parenti che vagano qualche volta al di là dell'informazione per sapere le informazioni essenziali su se stessi questo te lo dico è uno spettacolo insopportabile insopportabile hai detto delle cose come immaginavo Vitali hai detto benissimo Claudio molto difficile intervistare Claudio penso di aver portato a malapena a termine il mio compito con pochi morti e feriti però con Claudio Brachino termina e lo ringraziamo e lo avremo ospiti di sicuro altre volte termina la puntata odierna di Medicina Top ringrazio come sempre i nostri amici un grande saluto a tutti prego Claudio non ti voglio interrompere il suo rito fondamentale del saluto però non lo volevo dire ricordiamo che questo è uno dei format del multimediale di Itapressa lo ribadiamo certo che è molto importante perché così come abbiamo fatto per la politica l'economia gli esteri con Radio Dessa Medicina al Top va a coprire un campo di informazione molto importante l'abbiamo affidato a uno del tuo livello professionale è stata una giornata veramente utile e particolare attraverso l'intervista conclusiva a Brachino grazie a tutti i nostri amici da parte di Medicina al Top e di Marco Klinger alla prossima occasione Grazie a tutti i nostri amici Grazie a tutti i nostri amici Grazie a tutti i nostri amici